La spiaggia di San Leone, località balneana grigentina, si è trasformata in una vera e propria beach arena. Hanno presso il viaggio a ieri le gare dell'ultima tappa del campionato italiano di Serie A Enel di Beach Soccer, organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'evento è in programma fino a domani e il protagonista assoluto è lui, Diego Armando Maradona Junior, calciatore come il grande papà ma di Beach Soccer. Ai nostri microfoni svela gli svantaggi e i vantaggi di un cognome importante. Come tutte le cose ci sono i pro e i contro. Io sono nato con questo cognome quindi non sento né il peso e né quali sono i pro e i contro. Prendo la vita come viene e cerco di essere il più positivo possibile. La Sicilia sembra essere diventata ormai la casa del beach soccer e dopo le cinque edizioni catanesi questa volta gli organizzatori hanno voluto sperimentare una nuova location e coinvolgere così un'altra parte dell'isola.